Al Cenacolo dei Sapori, settima edizione, torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate francavillese, Sindaco? Sì, quello del quale sono innamorato, quello che ho sempre definito l'appuntamento più bello dell'estate francavillese, una rivevocazione dei tempi della Belle Epoque, dei tempi in cui Michetti, D'Annunzio, Laserao, Tosti, Barbella si riunivano a poche centinaia di metri da qui, esattamente dove facciamo la manifestazione e trascorrevano le loro vacanze, non solo, creavano ognuno nella propria arte, ognuno nella propria disciplina. Riviviamo quell'epoca assaggiando dei cibi prelibati, con presenze quindi attori, artisti assolutamente di livello. Quest'anno avremo appunto Dario Cassini, il comico, avremo Lino Guanciale, Piero Mazzocchetti e infine Fortunato Cerlino, che il nome può non ricordare quest'attore importante, lo facciamo capire al pubblico, è il Pietro di Gomorra, il boss dei boss della serie televisiva Gomorra che ha avuto tanta fortuna. Quindi tante presenze, poi ci sarà il circo d'epoca, il circo dell'Ottocento, ci saranno i figuranti, ci sono circa un centinaio di figuranti, ci saranno tante novità, ci sarà anche una importante novità perché ricorre il centenario, pensate un po', dell'impresa di D'Annunzio con i volantini buttati dall'aereo sulla capitale, su Vienna. Sono cento anni da quel giorno e quindi lo ricorderemo quel giorno con uno splendido aereo che sarà costruito ad hoc per questa manifestazione. Siamo nell'ultima decade di agosto, possiamo fare, Luciani, un primissimo bilancio dell'estate, tantissime presenze anche quest'anno a Francavilla, mare pulito, è andato tutto bene, grandi concerti, grandi personaggi, è soddisfatto? Molto soddisfatto, tanta presenza, abbiamo ricevuto l'applauso degli operatori del settore perché Francavilla, ricordiamolo sempre, vive di questo, vive di piccolo commercio, di turismo e quindi è stata un'annata in crescita, una ripresa che è evidente per la nostra città e segno che la strada che abbiamo intrapreso tanto tempo fa porta i suoi frutti. Grazie. Grazie.